Buonasera, questo è il cantiere Riolo, è il terzo anno e facciamo i cari imparati. Quest'anno il soggetto è sulla comunicazione, come è cambiato il modo di comunicare con l'avvento delle app, infatti il titolo è Mapp è davvero, comprende la vecchia generazione e la nuova generazione, infatti uno dei pezzi principali è il bimbo, è posto dal biberon a un tablet integrato, ci sono i vecchietti davanti che guardano tutta questa tecnologia e si stupiscono, poi c'è il virus che esce dalla mela dell'Apple che sta contagiando a tutti, infatti ha contagiato il piccione, che è il piccione viaggiatore, che invece di viaggiare usa Twitter e tutti altri metodi di comunicazione, l'indiano invece fa il segnale di fumo, ma usa il computer, il telefonino, eccetera. In questo cari imparati all'incirca hanno utilizzato i 50.000 garofoni, poi noi abbiamo cercato di, oltre ai garofoni, abbiamo cercato di inserire altri tipi di materiali come corteccia, pino, altri cari secchi, sempre vivi, e le foglie, ci sono le foglie di quercia, foglie di eucolipto, stiamo cercando di portare qualche novità. Poi a livello tecnico, all'incirca ci sono una quindicina di motori per muovere tutti i pezzi, 3.000 lampadine, faretti, eccetera. Capito, in quanto tempo si fa, però, ma non parlo di questo? Questo qua, quasi tutto l'anno, in Vigano. Quindi si parte da forma di polisterolo? Sì, si parte dal ferro, si modella tutto il ferro, si fa la forma e poi si attacca il polisterolo, e poi si ritaglia e si modella. Ma anche per questo c'è bisogno di bozzetti? Devi presentare anche per questi bozzetti? Sì, dobbiamo presentare dei bozzetti, quello che ci spinge a fare tutto questo è la passione, infatti nessuno lo fa per soldi, tutta la famiglia si riunisce, amici, parenti, e chi vuole dare una mano per realizzare quest'opera. E benvenuto. Me la togli una curiosità. Sì. Com'è scegli il caro in gelato piuttosto che il caro in gattapessa? Perché secondo me c'è molto più lavoro, anche se è poco valorizzato, è una cosa diversa che alla fine forse abbiamo solo da girare in questo modo, perché forse li fanno a Saremo, ma a Saremo sono più che altro sculture, maschere, ferme, invece questo è proprio un caro, però fatto con i fiori. I cari di cartapesta alla fine ci hanno ormai quasi tutti, tutti i carnevali, invece questo qua abbiamo solo noi e purtroppo forse non viene sfruttato, viene valorizzato in modo opportuno. dovremmo cercare di spingerle un po' di più queste, perché che tanto a me sono carri veri e propri, un altro non è una macchina infiorata. Infatti ormai è carri infiorata, non è più macchina infiorata. Sono carri infiorata perché se lo sono preso di diritto, visto anche la bellezza e le dimensioni che hanno raggiunto.